Il 23 cominciamo a avere sulla testa una debbia fittissima. C'era tutto silenzio, tutto vattato. Poi cominciò a arrivare i carri tedeschi in ritirata. Ragazze, un esercito in rotta è la cosa più brutta, più, come si dice, più angosciosa che uno possa... C'era la fila dei carri che avevano requisito in Jugoslavia, quei carri a quattro ruote, pieni di feriti, delle cose che non si potevano guardare. E che tutti questi tedeschi andavano verso il Po. Però c'era qualche gruppo di giovani partigiani che erano in pianura, i SAP, che tentavano di disarmare i tedeschi perché si vedevano così in rotta, così... Invece i tedeschi non ci hanno mollato fino all'ultimo momento. Noi avevamo l'ordine di stare il più tranquilli possibile perché non si sapeva bene com'era la situazione. Io ero in casa e sentì un cavallo arrivare a tutta velocità, al galoppo proprio. avevo i tiranti lasciati andare perché si vede che l'aveva staccato da un carro e non si era data la briga di togliere i finimenti. Io sono corsa fuori ed ero un tedesco, un giovane tedesco, ma giovanissimo, perché sapete che Hitler aveva reclutato i giovani anche a 16, 15-16 anni. Questo giovane, il Mavest, la cominciò a urlar gli americani, gli americani, cioè voleva che mi mettessi al riparo perché lui non sapeva che io ero una partigiana, però in quel momento eravamo solo due giovani che avevamo voglia tutte e due che la guerra finisse. Lui era sulla strada per provare di arrivare a casa e io ero lì che aspettavo proprio che si liberasse il paese e che ci fosse. Quindi io in quel momento non mi sono sentita né di odiare i tedeschi, né di odiare quel giovane che forse prima mi aveva fatto del male, perché in quel momento avevo solo voglia che la guerra finisse e che le cose cambiassero. Io il 24 l'ho vissuto così, il 25 invece che poi è esploso, che è stata esplosa tutta la gioia che uno poteva avere dentro, perché io la guerra l'ho incominciata nel 35 con la guerra d'Africa che avevo 10 anni e il 25 aprile del 45 avevo 20 anni. E la prima cosa che ho fatto sono andata a spalancare le finestre. Erano 5 anni che avevamo le finestre tapezzate con la carta blu da zucchero, che allora si usava a impacchettare lo zucchero perché non filtrasse nessuna luce dalle nostre case. Poi abbiamo rimediato una bandiera e siamo partite in colonna per andare a Reggio, per manifestare la nostra gioia. Lungo la via Emilia, dalle due parti, c'erano tutti già i soldati americani di occupazione. la mia grande sorpresa perché cominciai a vedere della gente di colore, neri, indiani con il turbante, tutte truppe che erano dietro all'esercito americano perché avanti è venuto i cararmati, poi invece tutte le truppe si erano tutte appostate lungo la via Emilia, da Rubiera fino a Reggio. Quando però arrivavamo, i partigiani erano già venuti giù dalla montagna, quando arrivavamo lì all'ospizio si fermarono, fermarono il corteo dei partigiani perché dentro città c'era ancora molto rischio, c'erano i cecchini che dai solai sparavano. Infatti lì, in quei giorni lì, ci furono molti morti e noi disciplinatamente torniamo indietro e andiamo caso. Poi dopo non le contiamo le manifestazioni che si sono fatte.